Ci sono medici che pensano di lavorare in un sistema chiuso e medici che si sono accorti che non esiste nessun sistema chiuso, ma solo sistemi aperti dove la norma è determinata da interconnessioni positive e negative o interferenze. Di conseguenza persiste una medicina che continua a chiudere il sistema dove la conoscenza è arroccata su assiomi, postulati e dogmi, con alcuni che hanno iniziato a guardare fuori, coscienti che l'uomo fa parte del sistema in cui vive, non essendoci caduto per caso. Oggi la ricerca è libera, circoscritta o condizionata da fattori esterni politici ed economici. Esistono ancora relatori autorevoli, preparati, onesti e conoscitori della materia in senso ampio o abbiamo ottimi ed eleganti oratori servitori di un meccanismo che li forgia per condizionare la scienza? Siamo giunti da anni ad un punto per cui la complessità influenza tutti gli ambiti della ricerca diventando immensa relativamente a tutto ciò che è oggetto di apprendimento e conoscenza da parte della mente umana. C'è troppo da sapere per veramente sapere. A questo si aggiunge che diventa quasi impossibile giungere ad una buona sintesi per far comprendere l'essenza di ciò che si comunica per evitare gli inevitabili fraintendimenti o la noia di chi non ha conoscenze sufficienti per comprendere ciò che si vuole comunicare, l'assenza di voglia di voler capire pensando di aver già capito tutto e l'uditore dovrebbe essere in grado di comprendere se sia onesto chi comunica e se abbia i requisiti per farlo o se la comunicazione non sia strumento con uno scopo finale differente mirato ad inibire la concorrenza di altre verità. Si può raccogliere un'enormità di dati che interagiscono e che non sono computabili nemmeno col computer più potente che in ogni caso non potrà ragionare autonomamente verificando diverse alternative perché quando analizza i sistemi sequenzialmente per lui esiste una sola verità. Se i dati immessi in un computer sono finalizzati per ottenere un determinato risultato ecco che il falso diventa vero trasformando il vero in falso. La vita scorre in un plurisistema composto da sottosistemi interagenti in cui non è individuabile un centro assoluto. Chi osserva la vita per cercare di capirla vede particolari differenti dell'oggetto se questo è analizzato o inserito nell'ambiente o se è isolato. Tra questi studiosi della vita c'è chi si rende subito conto di studiare solo una parte del sistema e lo considera nelle sue conclusioni ma c'è chi pensa che l'oggetto dei suoi studi sia autonomo e isolato e non influenzabile da ciò con cui interagisce. È possibile che molte certezze in campo medico siano fondate su dati incerti e mai dimostrati ma assunti solamente come assiomi? È possibile che esistano livelli diversi dove le regole di un livello siano completamente diverse dagli altri livelli? Perché esistono conflittualità tra scienziati che studiano gli stessi fenomeni? Possono esistere più verità? Cartesio, come tantissimi altri filosofi, cerca un metodo che dia la possibilità all'uomo di distinguere il vero dal falso non soltanto per un fine strettamente speculativo ma anche in vista di un'applicazione pratica nella vita per questo scopo adotta un procedimento di critica totale della conoscenza il cosiddetto dubbio metodico Per ipotizzare, costruire o elaborare una teoria o una scienza ci vorrebbero dati scientificamente provati e dimostrati ma non esiste nessuna base che possa prescindere da assiomi postulati o convenzioni e il tutto nasce da osservazioni filosofiche con discussione tra i vari personaggi dei quali per molti conosciamo la storia e la filosofia e di altri ignoriamo ogni opera ignoranza che si può anche riscontrare in molti scienziati che sono maestri nella loro scienza ma di cui, a volte, non conoscono l'origine abbiamo necessità pertanto di concetti o enti primitivi e di assiomi da cui si deducono mediante definizioni nuovi enti e mediante dimostrazione di nuove proprietà teoremi ma da un certo punto della storia della scienza e della ricerca entra in gioco la statistica che non è altro che un metodo di presentazione dei risultati e diventa tutto più facile perché con questo metodo chiunque può produrre pubblicazione e sembrare un genio ma a questo punto la scienza non è più scienza ma gioco d'azzardo quando è che si introduce la statistica nella ricerca medica? quando non siamo in grado di risolvere o capire subito il problema e di fatti il professor Luigi Cavalli Sforzo che fu il padre della statistica definisce questo metodo come felice sussidio all'ignoranza umana nell'immediato va bene utilizzare la statistica ma poi va rivisto nel successivo per vedere se non si è in corso in qualche tipo di errore in qualche tipo di omissione e di errori ce ne sono parecchi errori determinati da raccolta inesatta di dati o soprattutto rapporto di correlazione tra i dati raccolti come nel caso del vaccino in cui non si è verificato prima se i pazienti avessero già anticorpi e soprattutto se dopo il vaccino gli anticorpi fossero stati generati si è parlato tantissimo del genoma virale in precedenza veniva utilizzato ma viene ancora utilizzato il metodo standard secondo il quale si era in grado di verificare l'attività del virus e se era vivente questa metodica si è stata sostituita dall'analisi del trascrittoma con questo metodo era o è possibile diagnosticare se il virus è vivo e si sta replicando c'è però un errore di fondo il virus non è vivo e lo vedremo dopo sotto è descritta anche qual è la metodica utilizzata nell'analisi del trascrittoma cosa si vede come si vede cosa non si vede un oggetto si vede con la vista i ciechi col tatto ricepiscono le forme alcuni animali usano l'olfatto i pipistrelli vedono l'ambiente con un sistema radar la distinzione tra visibile ed invisibile non è univoca ed oggettiva e alla base di ogni forma di visione c'è sempre una interazione la luce riflessa da un oggetto interagisce con il nostro occhio il dito o la mano del cieco con gli atomi dell'oggetto che tocca le onde messe dal pipistrello interagiscono con ciò che queste onde incontrano venendo rifrate e ricevute di ritorno dal sistema radar visivamente direttamente non è possibile vedere non solo gli atomi ma nemmeno i virus la luce visibile ha una lunghezza d'onda media di 500 nanometri cioè un decimillesimo di millimetro ed è quella dimensione visibile con i potenti microscopi ottici per vedere dimensione inferiore dobbiamo creare una radiazione elettromagnetica con una lunghezza d'onda molto molto più piccola solo alla fine dell'ottocento con l'invenzione dei raggi x e successivamente con gli acceleratori di particelle si è riusciti a vedere il mondo atomico e subatomico fotoni o quanti di radiazione elettromagnetica di altissima energia riescono ad avere lunghezza d'onda inferiori e ci permettono di vedere indirettamente e di studiare il mondo microscopico inferiore ad un miliardesimo di miliardesimo di metro così sono stati scoperti i mattoni dell'universo particelle senza strutture identificate come quark da un lato i mattoni che formano le particelle più complesse come i protoni o i neutroni e i leptoni dall'altra parte quali gli elettroni e i neutrini ma anche i virus veniamo ora al nocciolo della questione ci sono state tantissime e tantissime diatribe sul fatto che i virus possano essere viventi o non viventi in base alle definizioni classiche abbiamo che i virus non si muovono ma vengono trasportati a tratti grazie alle cariche ioniche positive dei peplomeri i virus non si nutrono e non si possono coltivare i virus non si riproducono e non nascono ma sono riprodotti e costruiti dai ribosomi delle cellule infettate i virus non respirano i virus non crescono quindi i virus non sono materia vivente ma aggregati molecolari con cariche ioniche positive all'esterno nella dinamicità dell'universo composto anche dall'uomo che è un sistema aperto ovvero interagente con l'ambiente sia esterno che interno le leggi di natura sono ancora sconosciute e le leggi umane statiche sono valevoli per sistemi chiusi in cui tutto è sempre riproducibile nell'identica maniera ma purtroppo non esiste nessun sistema chiuso nell'universo con strumenti sempre più precisi errori dapprima invisibili o solamente trascurabili divengano visibili e mostrano i limiti dei postulati precedenti determinandone dei nuovi che spiegano i precedenti più i casi eccezionalmente dapprima inspiegabili che non erano eccezioni ma rispondevano a criteri ancora sconosciuti visibili oggi con i nuovi strumenti secondo una stima fatta dai tecnici della Washington University ci sono circa 10 alla quattordicesima atomi in una tipica cellula umana per cui il numero che risulta è di 100 trilioni di atomi diventa curioso notare che il numero di cellule nel corpo umano raggiunge lo stesso valore del numero di atomi contenuti nella cellula umana pertanto il numero di atomi di un organismo umano è di 100 trilioni per 100 trilioni per cui un numero seguito da 28 zeri dobbiamo prendere atto che l'uomo è un sistema aperto complesso e autopoietico che elabora un segnale che viene introdotto dal mondo esterno generalmente sotto forma di un'onda elettromagnetica di tipo fotonico che matematicamente è rappresentabile con una funzione che comprende numerose variabili e quindi non è una funzione lineare rimandando poi un analogo segnale in uscita anch'esso costituito da una funzione a più variabili dopo che ha organizzato il proprio sistema autopoietico utilizzando tale segnale un piccolo esempio potrebbe essere metaforizzato dai ritmi circadiali per poter quindi studiare l'organismo umano diventa impellente assumere come strumento anche la cibernetica che è scienza multidisciplinare che unisce ingegneria matematica logica e fisica studiando il comportamento e le reazioni degli organismi viventi progettando da par suo sistemi artificiali tendenti a ottenere sistemi in grado di autoprogrammarsi come avviene per l'uomo e quindi cercando di conoscere l'uomo e meccanismi che regolano la vita intesa come inglobata nel sistema che genera le modifiche definita oggi di origine epigenetica questa analisi di tipo cibernetico dell'essere umano ha portato alla realizzazione di apparecchiature e strumenti che interagendo direttamente con l'organismo sono in grado di studiare i flussi di segnale che avvengono nel sistema umano ma anche questi strumenti hanno l'altra faccia della medaglia per cui devono essere messi in mano a persone che posseggano una profonda etica tutti i corpi viventi e non viventi terra compresa emettono onde elettromagnetiche e quindi esiste nell'ambiente una radiazione elettromagnetica di fondo l'evoluzione tecnologica ha però portato alla produzione di campi elettromagnetici da sorgenti artificiali le onde elettromagnetiche consistono in piccolissimi pacchetti di energia chiamati fotoni caratterizzati da una lunghezza d'onda la frequenza e dall'energia in particolare soprattutto con riferimento ai possibili effetti biologici e quindi agli studi effettuati si distinguono i campi a radiofrequenza che vengono distinti in tre categorie a frequenza estremamente bassa 50-60 Hz quelli associati agli elettrodotti ad alta frequenza generalmente sui 300 MHz e campi a radiofrequenza altissima emessi dai sistemi di telefonia mobile da poco meno di 1 GHz e oltre il corpo umano non deve più essere visto solo come organismo in cui avvengono scambi metabolici che possono rimanere in equilibrio o squilibrarsi ma anche come impianto elettromagnetico in cui circola un numero inimmaginabile di segnali di quel tipo con frequenze particolari e specifiche che interferiscono o subiscono interferenze anche da segnali esterni o interni la stessa cosa per i virus che oltretutto non vivono il virus con le sue proteine la spike nel caso del virus SARS-CoV-2 ma anche altri peplomeri di tutti gli altri virus sono caricati ionicamente positivamente per cui subiscono il fenomeno dell'attrazione ed essendo formati da atomi sono sottoposti alle leggi della fisica quantistica compresa la legge dei domini di coerenza e tutto questo spiegherebbe anche l'affinità per particolari recettori cellulari piuttosto che altri si presume di sapere che il DNA governa il controllo chimico sintesi proteinica ma anche il controllo elettromagnetico biofotoni è quindi responsabile sia dell'omeostasi biochimica che elettromagnetica che sono interdipendenti o forse è solo un ripetitore di segnali o un contenitore di segnali che poi distribuisce correttamente dove sono necessari le complesse reazioni biochimiche che avvengono all'interno dell'organismo si traducono in emissioni di energia elettromagnetica emesse spontaneamente da sistemi biologici bioluminescenza da sostanze ponderali per esempio farmaci o alimenti o in diluizione per esempio rimedi omeopatici ma a questo punto c'è da chiedersi pensando alla replicazione delle proteine virali e pensando a quello che accade con le proteine prioniche che danno ad esempio la malattia della mucca pazza Crexfeld-Jacobs in cui il prione viene replicato nello stesso modo dei virus senza intervento di DNA e di RNA perché il prione è una proteina pura affetta da isomeria conformazionale forse DNA e RNA sono semplici ripetitori di segnale e non direttamente generatori di questi segnali come è spiegabile che avvenga la sintesi di proteine diverse da un oggetto che non possiede acidi nucleici e quindi nessun corredo genetico questo porta a pensare che sia la frequenza emessa dalle proteine stesse deformate rispetto alla proteina fisiologica non patogena ma con gli stessi identici sintomi a determinare la modifica gli scienziati dell'Università di Zurigo hanno scoperto che il gene dei prioni è di fondamentale importanza per la memoria umana a lungo termine questo nel luglio 2005 la natura non ha creato il gene dei prioni per farci ammalare afferma Andreas Papasotiropoulos responsabile del gruppo di ricerca in genetica dell'Università di Zurigo la sua importante funzione non era però ma è stata chiarita fino ad ora per ottenere l'immagine che è un'immagine indiretta il microscopio elettronico dotato di altissimo potere risolutivo permette l'osservazione di campioni di grandezze infinitesimali virus compresi sfruttando le proprietà ondulatorie di più fasci di elettroni che compongono l'oggetto pertanto tanti particolari descritti dai microbiologi e virologi sono pure ricostruzioni virtuali derivati da questi dati trasformati in immagini da potenti computer sulla base della rilevazione di segnali magnetici a questo punto diventa pertanto necessario verificare se i monologi virologi microbiologi e tutti quelli che si occupano di questi argomenti sappiano che differenza c'è tra proprietà corpuscolare e ondulatorie per farlo non servono più i libri di medicina o di microbiologia ma di fisica e a questo punto chi direbbe che stiamo parlando di virus? Per rendere comprensibile questo discorso consideriamo questi due fenomeni ondulatorio e corpuscolare da una parte immaginiamo di osservare il movimento che in fisica viene chiamato moto di una palla da tennis e il movimento delle onde del mare sia in un caso che nell'altro al loro movimento si associa un trasferimento di energia ma i due fenomeni presentano tra loro una grossa differenza osservando la pallina da tennis l'energia che trasporta è immagazzinata nella palla stessa mentre nel mare con le sue onde l'energia si distribuisce su tutta la superficie ondosa l'oggetto tipo particella è rappresentato dalla pallina da tennis mentre il fenomeno ondulatorio è rappresentato proprio dal mare con le sue onde il fenomeno corpuscolare è localizzato e ben individuabile mentre quello ondulatorio è delocalizzato per capire come si possa utilizzare il fenomeno ondulatorio per ricavare un'immagine si deve ricordare anche che una caratteristica del fenomeno è la diffrazione che si verifica quando un'onda incontra un ostacolo di dimensione paragonabile alla sua lunghezza d'onda e invade in parte la zona che dovrebbe essere in ombra in questo caso della luce il fenomeno della diffrazione si verifica solo se l'ostacolo ha dimensioni molto piccole non visibile dall'occhio umano praticamente l'ostacolo fa deviare il fascio luminoso come può accadere toccando l'acqua che scende da robinetto con un dito che devi al suo percorso adesso ridiscendendo nel piccolissimo la distinzione tra onde e particelle tende a scomparire se ora si esamina un elettrone che si muove nello spazio e si intromette sulla sua strada un opportuno rilevatore sarà possibile individuare la traiettoria dell'elettrone con una precisione che dipende dalle caratteristiche del rivelatore ma che può anche giungere all'ordine del micron quindi sarà possibile posizionare esattamente l'elettrone che in questo caso si comporterà come una particella se d'altro canto si invia un fascio parallelo di elettroni verso uno schermo in cui è stato praticato un foro si vedranno gli elettroni che dopo aver superato il foro cambiano di direzione non muovendosi più parallelamente ma facendo anch'essi come le onde del mare muovendosi radialmente con una direzione divergente dal foro per vedere ciò che non è visibile col microscopio ottico venne inventato il microscopio elettronico con questo strumento riusciamo a vedere la ricostruzione di dettagli di strutture infinitesimali non visibili otticamente neppure col microscopio ottico più potente come si possono comprendere i movimenti e le modifiche indotte dai virus che non sono vivi e che quindi dobbiamo considerare come particelle complesse ma non vive e che danno effetti biologici ben visibili e percepibili e che condizionano la nostra vita e la nostra morte questo è il nuovo paradigma da inserire e al momento attuale e la fisica che una spiegazione ce la propone ricordando le onde elettromagnetiche la legge dei domini di coerenza l'elettricità statica la tensione superficiale e rifacendosi anche i radiamatori con il concetto di onda portante il termine virus vuol dire veleno si replica esclusivamente all'interno delle cellule degli organismi viventi potendo infettare tutte le forme di vita flora e fauna batteri e altri virus quindi un virus può determinare il cambiamento di un altro virus ma se invece di usare il termine virus che predispone considerare il virus come qualcosa di vivo quando non lo è usassimo il termine veleno forse tutto diventerebbe più facile da comprendere quando questo veleno non si trova all'interno di una cellula infetta o nella fase preinfettiva è costituito da particelle indipendenti e inattive che sono i virioni composti da due o tre frazioni il materiale genetico costituito da dna o rna un rivestimento proteico chiamato capside che racchiude il materiale genetico e in certi virus esiste una terza componente che è costituita da una sacca di lipidi che circonda il capside quando i virus sono fuori dalla cellula pertanto virione e virus sono la stessa cosa per cui il virione diventa virus quando è dentro la cellula che è infetta perché un virione è una singola particella virale ed in questa forma il virus è inattivo e fisicamente isolabile e cristallizzabile i prioni con il loro comportamento dimostrano che già una glicoproteina alterata riesce indipendentemente da rna e dna ad essere patogena inducendo modifiche strutturali e riproduttive nelle cellule che infetta e anche a farsi replicare tornando ora ai virus va detto che le loro origini non sono chiare senza addentrarci tra le varie teorie è importante seguire la loro evoluzione che avviene con trasferimento genico orizzontale aumentando a dismisura la loro diversità genetica il trasferimento genico orizzontale acronimo TGO è un processo con cui un organismo trasferisce materiale genetico ad un'altra cellula non discendente ma potrebbe trattarsi anche di informazioni frequenziali magnetiche che determinano avvelenamento delle cellule che a loro volta producono virus come Dracula che succhiando il sangue alle sue vittime le trasformava a loro volta in vampiri vampirizzazione virale opinione comune è che i virus si sviluppano in molti modi nel mondo vegetale passano da pianta a pianta per mezzo degli insetti che si nutrono della loro rinfa negli animali possono essere trasportati da insetti succhiatori di sangue che sono definiti vettori ci sono poi i virus influenzali che si diffondano attraverso la tosse gli starnuti i norovirus e i rotavirus hanno trasmissione orofecale ci si contagia con il contatto entrando nel corpo con il cibo e le bevande la HIV è uno dei numerosi virus trasmessi attraverso il contatto sessuale e dall'esposizione a sangue infetto le cellule ospite o bersaglio che un virus può infettare sono eterogenee e alcuni virus sono in grado di infettare solo pochi tipi di cellule mentre altri invece sono in grado di infettarne molti negli animali le infezioni virali provocano una risposta immunitaria che solitamente elimina il virus infettante le risposte immunitarie possono essere prodotte anche con vaccini che conferiscono un'immunità artificialmente acquisita per l'infezione virale specifica tuttavia alcuni virus compresi quelli che causano l'AIDS e l'epatite virale sono in grado di eludere queste risposte immunitarie e provocano infezioni croniche permanendo come in un cavallo di troia all'interno dell'organismo come il virus arpetico abbiamo l'infezione virale l'organismo guarisce dall'infezione quando il sistema immunitario immediato quello di pronto impiego specifico interviene e vince la battaglia con la replicazione virale subito in prima istanza cosa succede esattamente le proteine virali sono distrutte ed eliminate o convertite o disgregate e la cellula utilizza i suoi costituenti dopo lo smantellamento visto quanto detto dei prioni è possibile che gli anticorpi proteici si comportino come prioni al contrario ovvero riconfigurando il virus che viene solamente neutralizzato perdendo la sua capacità di conversione delle cellule che procede a cascata come per i prioni un dubbio che dovrebbe poter essere considerato come plausibile quando i virus non vengono distrutti o resi innocui dagli anticorpi di primo impiego specifici l'organismo prende le misure del virus o delle sue proteine e incamera i dati nella memoria immunologica che interviene nel caso di successiva reinfezione producendo immediatamente gli anticorpi adatti ma questa memoria immunologica potrebbe anche essere costituita da un gruppo di proteine che intervengono comportandosi come il prione ed in questo caso nei confronti delle proteine virali trasformando questi virus antigeni neutralizzandoli o magari modificandoli da farli diventare essi stessi anticorpi modificando nell'assetto e l'assemblaggio o distorcendoli solamente ricordando il fenomeno dell'isomeria citato in precedenza non conosciamo in maniera sufficiente i tempi in cui si sviluppa la memoria immunologica e che forma abbia dove sia posizionata dentro i linfociti e come riesce a far produrre gli anticorpi specifici perché anche in questo caso dovrebbe dipendere da RNA o DNA che non sono presenti o ricordando i prioni il dubbio che sia RNA che DNA abbiano poi tutta quella importanza non pare ritorna comunque l'idea che siano le proteine ad avere la capacità di far fare con RNA e DNA che sarebbero solo i contenitori del programma e non il programma stesso un altro dato passato inosservato risale al 2012 quando durante una simulazione in laboratorio con molecole biatomiche di idrogeno si è dimostrato che campi magnetici estremamente intensi possono creare un legame chimico nuovo comunemente gli atomi possono formare molecole con due tipi di legami quello ionico in cui l'elettrone di legame viene ceduto da un atomo all'altro e quello covalente in cui l'elettrone viene condiviso questa ipotesi di terzo legame è stata realizzata in presenza di campi magnetici estremamente intensi e venne pubblicata su Science dal chimico El Gacker dell'Università di Oslo il test venne effettuato con la molecola biatomica di idrogeno H2 e le sue possibili distorsioni all'interno di un campo magnetico intenso la nostra ipotesi è che gli atomi siano tenuti insieme dal modo in cui i loro elettroni danzano intorno alle linee del campo magnetico questo ha spiegato El Gacker la loro energia cinetica può partecipare in modo importante al legame in virtù dell'attrazione elettrostatica tra elettroni e nuclei questo è solo un esempio di come non ci sia dialogo non solo tra le pseudoscienze ma anche tra membri delle stesse pseudoscienze che mancano di coordinazione tra di loro siamo abituati ad immaginare il magnetismo classico calamita chiodo aruginito con cui abbiamo giocato quasi tutti da bambini o vedere le gocce di mercurio che quando sono vicine si attirano e diventano una goccia unica ma esistono attrazioni magnetiche specifiche che se studiate potrebbero dimostrare come si possono selezionare ad esempio gli ioni da tirare o da rispingere questo e solo questo può essere il fenomeno che è invisibile otticamente ovvero si vedono i due oggetti che si attraggono ma tra i due oggetti non si vede nulla ed è quello il fenomeno che mi interessa l'energia attrattiva specifica dell'attrazione o della ripulsione molecolare che potrebbe entrare in gioco nelle pompe nei canali ionici delle membrane cellulari e quindi anche dei virus oltretutto non è neppure necessario invocare la fisica quantistica per capire questo concetto basta ricordarsi di Heisenberg l'atto metabolico elementare deriva da attrazioni o ripulsioni magnetiche leggiamo cosa il professor Fang Li spiega al Tegardian la struttura in 3D mostra che rispetto al virus che ha causato l'epidemia di SARS nel 2002 e 2003 il nuovo coronavirus ha sviluppato nuove strategie per agganciarsi al ricettore umano tra cui quello di formare un legame più stretto questo legame con il ricettore può aiutare il virus a infettare le cellule umane e a diffondersi maggiormente tra gli esseri umani il professore veterinario Fang Li vedendo grazie alla fisica quantistica questa cresta sulle spine spike che risulta più compatta della cresta del virus della SARS conclude che ciò potrebbe essere uno dei motivi per cui il nuovo coronavirus è così altamente contagioso ma non fa alcun riferimento alle cariche ioniche positive ben visibili che presenta sulla superficie esterna della proteina spike che potrebbero semplicemente essere calamite più potenti e se l'argomento non viene considerato quali sono le conclusioni di Fang Li e collaboratori il nuovo modello potrà quindi essere utile per lo sviluppo di farmaci e vaccini in grado di prendere di mira la proteina spike e di neutralizzare il coronavirus il nostro studio può guidare lo sviluppo di anticorpi monoclonali che agiscono come un farmaco per riconoscere e neutralizzare la parte legante al recettore della proteina spike conclude lì oppure una parte della proteina spike potrebbe diventare la base per un vaccino oppure continuo a mantenere la medicina sulla strada a fondo cieco oltre alla quale si blocca e si arrotola su se stessa piuttosto che dirottare prendendo la strada della biofisica che potrebbe portare molto più lontano e magari risolverò anche la radice questo e altri problemi all'esterno la proteina spike è fortemente ionizzata positivamente quindi di logica per inattivarla obiettivo a cui vorrebbe arrivare fangli si potrebbe anche provare ad ionizzarla utilizzando il principio dello scambio che è un processo molto efficace per eliminare dall'acqua impurità residui e sostanze nocive e per farlo si usano sostanze che in virtù della propria conformazione superficiale favoriscono notevolmente l'adesione degli ioni determinando uno scambio ionico non a caso la nasa studiò il fenomeno e permise la messa a punto di aggeggini che sono considerati efficacissimi contro i virus iniziarono ad occuparsi dell'argomento per eliminare gli odori che invadevano le navicelle per colpa del carburante utilizzato e poi casualmente videro anche il suo effetto sui virus l'aggeggio sfrutta il fenomeno della fotocatalisi che avviene utilizzando una fonte luminosa una boblina di clesla e altri metalli inseriti all'interno uno dei pochi che ha affrontato questo argomento fu il professor Luc Montagné tacciato da alcuni comunicatori di demenza senile Montagné già collaborava col fisico meglio del giudice è evidente che se in ignoranza incontra l'intelligenza la vede come ignoranza pensando a sé come intelligenza tornando al virus SARS-CoV-2 pensando alla relazione tra la carica positiva ionica della proteina spike e la differenza di potenziale delle membrane cellulari negativa che è in media di meno 70 millivolt e alle pompe ioniche membranali si apre un diverso panorama con l'equazione di Nernst possiamo calcolare il potenziale di equilibrio di uno ione con quella di Goldman-Hodgkin-Katz il potenziale di membrana a riposo per una cellula permeabile a tre specie ioniche ione sodio ione potassio ione cloro ciascuna con un suo coefficiente di permeabilità Getulio Talpe e Miglio del Giudice conoscevano queste equazioni e le hanno usate per produrre macchinari medici ma i medici le conoscono anche se usano questi macchinari sanno come agiscono come mi accade spesso i colleghi mi dicono non ci credo rispondo non c'è da credere solo da studiare e capire il potenziale di membrana a riposo varia tra meno 40 e meno 100 millivolts ed è generato come dice la biochimica da canali ionici aperti e selettivamente permeabili ad una specie ionica ione da gradienti ionici mantenuti stabilmente da trasporti attivi che derivano unicamente da fenomeni di attrazione o ripulsione magnetica gli ioni influenzano il potenziale di membrana a seconda della loro permeabilità e con l'equazione della tensione di Goldman-Hodgkin-Katz si determina il potenziale elettrico di inversione attraverso la membrana cellulare tenendo conto di tutti gli ioni che sono cariche elettriche permeanti attraverso quella membrana il potenziale di riposo negativo è dovuto all'alta concentrazione di ioni positivi di potassio intracellulare e alla tendenza dello ione a sfuggire all'esterno lasciando una carica netta negativa attraverso i canali del potassio ione positivo aperti a riposo e sempre come dice la biochimica gli altri ioni contribuiscono poco al potenziale di riposo in quanto la membrana a riposo è poco permeabile ad essi quando sento poco tanto sorrido perché in questo caso la scienza perde la sua scientificità per diventare arte che sfrutta non dati scientifici ma dati affettivi il poco di qualcuno può essere enorme per altri e quel poco che a quel livello sembra ininfluente diventa fondamentale ad un altro livello che appartiene allo stesso sistema ritorna sempre il concetto che non esiste alcun sistema chiuso ma un sistema viene considerato chiuso solo per comodità scientifica per poter andare avanti nel discorso che altrimenti si fermerebbe sino alla comparsa della nuova teoria che spiega qualcosa in più rispetto alla teoria precedente come fa oggi la biofisica a cui non si aprono ancora le grandi porte ma solo pertugi il motore del metabolismo della cellula vivente è racchiuso nel fenomeno del passaggio trasmembrana il cui esempio più semplice è quello dell'ossigeno il polmone respirare che arriva agli alveoli che ci donano l'ossigeno al sangue che si trova dall'altra parte dell'alveolo si carica di ossigeno e lo porta dappertutto per nutrire le cellule e nutrire significa produrre energia all'ATP questa permeazione di molecole dentro fuori e delle cellule è stato ben identificato dal punto di vista di modifiche biochimiche ioniche che vi avvengono ed escriverlo è abbastanza semplice se si pensa ad una cannuccia che penetra senza farla scoppiare una bolla di sapone guardando questa bolla è inimmaginabile pensare a canali e a pompe perché è da osservare invece la permeabilità della bolla che è identica come meccanismo a quella della membrana cellulare che è solo più complessa perché sceglie cosa entra e cosa esce quella è la differenza il fenomeno sfrutta la tensione superficiale e l'elettricità statica l'elettricità statica si genera per strofinio di materiali isolanti l'attrito strappa elettroni da uno dei due materiali che si carica così positivamente e li esposta sul secondo che si carica negativamente essendo poi materiali isolanti la carica rimane localizzata generando un campo elettrico e di conseguenza un potenziale elettrostatico che dà la scossa a chi lo tocca come a volte succede dando la mano a qualcuno gli ioni con carica positiva e negativa quando si muovono perché a tratti o respinti determinano la conduzione elettrica nei liquidi nei gas nelle cellule umane che sono ricche di acqua e anche nei virus la tensione superficiale è visibile osservando i piccoli insetti fermi sulla superficie dell'acqua dove non affondano ma ne deformano la superficie affondando leggermente come se fossero su un tappeto elastico la spiegazione è nella proprietà fondamentale della superficie di un fluido tra le molecole che lo compongono agiscono delle forze attrattive per cui una molecola che si trova all'interno del fluido risente di forza in tutte le direzioni dovute alle molecole che la circondano da tutti i lati e forza risultante esercitata su tale molecola e quindi pare a zero ovvero non viene attirata da nessuna parte dentro la goccia se la molecola viceversa è posta sulla superficie esterna della goccia l'insieme delle forze che agiscono su di essa genera una forza che la tira verso l'interno perché il numero di molecole che la circondano è nettamente inferiore e sopra non ci sono altre molecole e i legami intermolecolari di coesione sono minori la conclusione è che per spostare una molecola dall'interno del fluido fino alla superficie deve essere compiuta del lavoro e serve una certa energia definita a tensione superficiale la superficie di un liquido quindi si comporta come se fosse una sottile membrana elastica resistendo alla tendenza da aumentare la sua aurea e la stessa cosa avviene per la membrana cellulare se una goccia di rugiada viene deformata a forma di elissoide essa velocemente ritorna alla sua forma sferica originale quella che a parità di volume garantisce la minore superficie possibile analogamente quando un insetto si posa sulla superficie di uno stagno crea degli avvallamenti determinando così un aumento della superficie e l'acqua si oppone e resiste a questa deformazione con una forza sufficiente a sostenere il peso dell'insetto a patto che quest'ultimo non sia troppo grande forse non tutti ricordano ma la nostra respirazione sarebbe difficoltosa se alcune molecole benefiche non diminuissero la tensione superficiale del fin liquido essenzialmente acquoso che ricopre i nostri polmoni lo scambio di ossigeno e anidride carbonica fra l'aria inspirata e il sangue avviene nei polmoni attraverso le membrane degli alveoli che utilizzano una sostanza tensioattiva insulfattante a composizione chimica complessa che evita l'adesione delle pareti alveolari durante gli atti respiratori ne mantiene l'elasticità e ne favorisce la detersione dalle impurezze e possiede inoltre azione antibatterica e antivirale questo surfattante sarebbe anche ciò che distrutto nell'intubazione selvaggia nelle pseudopolmoniti da covid avrebbe portato a morte molti pazienti grazie alla disidratazione esercitata dall'ossigeno insufflato ad alta pressione nelle camere pommonari comportando il collasso degli alveoli nella sindrome da insufficienza respiratoria dell'adulto si osserva un aumento della permeabilità alveolo-capillare con conseguente passaggio negli alveoli di proteine sieriche che inattivano il surfattante e danneggiano le cellule che lo producono nelle fibrosi interstiziali diffuse la riduzione del surfattante riveste un ruolo nel processo di fibrosi irreversibile nel 2009 Luc Montagnier premier Robert per la medicina riconobbe la validità dei domini di coerenza dichiarando come l'acqua non è affatto una sostanza inerte ma può assumere configurazioni particolari emettendo onde elettromagnetiche che possono diventare strumento di terapia e di regolazione non farmacologica ma sembra profondamente medica il DNA delle cellule emette delle onde a frequenza molto bassa da 0 a poche centinaia di Hertz sono stati resi noti gli studi sullo scompenso di questo range che compromette l'equilibrio della cellula con l'insorgere delle manifestazioni di patologie come l'Alzheimer Parkinson sclerosi multipla artrite reumatoide e le malattie virali come HIV AIDS influenza A ed epatite C informano l'acqua del nostro corpo acqua biologica della loro presenza emettendo particolari segnali elettromagnetici che possono essere poi letti e decifrati fonte in solo 24 ore e perché non modificati qualora fossero proprio questi segnali la causa di malattia il danno virale potrebbe derivare direttamente dall'interferenza delle frequenze emesse dalle proteine virali che si comporterebbero come i prioni patogeni successivamente intervistato il professor Montagné sembra che abbia rivolto il suo interesse alle onde magnetiche come causa di malattia è possibile il loro utilizzo terapeutico da utilizzare per virus batteri e quant'altro ricordando che le endo ed esotossine batteriche sembrano proprio funzionare come i virus che sembrano funzionare proprio come i prioni questi non hanno però né DNA né RNA una teoria sostiene che i virus siano le endotossine batteriche rilasciate al momento della loro distruzione e che i prioni derivano da virus che hanno perso DNA e DNA e tutte le azioni patogene sarebbero generate da proteine fisiologiche prionizzate diventando quindi veleno che è in grado di ingannare i ribosomi facendosi replicare il prione essendo una glicoproteina non è un virus o un microrganismo è quindi privo di acidi nucleici e conseguentemente di informazione genetica ma è in grado ugualmente di trasmettere informazioni visto gli effetti che genera la glicoproteina prionica è una proteina coniugata che contiene carboidrati legati covalentemente alla struttura polipetidica e che appartiene ad un gruppo vasto di composti biologici di considerevole importanza il prione dimostra quindi che una semplice glicoproteina può essere patogena inducendo modifiche strutturali e riproduttive nelle cellule con cui viene a contatto il fenomeno l'isomeria è molto diffusa e è importante nei composti organici una proteina che non è patogena semplicemente deformandosi diventa patogena e come può essere? la sola deformazione spaziale non cambia la composizione chimica ma può modificare la frequenza propria del campo magnetico che emana allargando le spire di un'antenna o cambiando la distanza dei vari elementi di un'antenna sempre gli stessi viene modificata la frequenza di lavoro di quell'antenna ritornando ai prioni è stato realizzato un modello computazionale realistico che spiega il meccanismo della loro replicazione questa ricerca dimostra l'importanza della collaborazione della medicina con la fisica oltre che con la chimica e biochimica i prioni sono quindi versione anomale di proteine normalmente presenti nel cervello dei mammiferi anomalie conformazionali e sono in grado di replicarsi e propagarsi in maniera simile ai virus senza avere né DNA né RNA l'esatto meccanismo è ancora sconosciuto ma si sa che questi prioni possono indurre il cambiamento della loro forma normale in quella anomala che poi prende il sopravvento e forma degli aggregati che uccidono le cellule nervose provocando delle gravissime patologie neurodegenerative chiamate encefalopatie spongiformi trasmissibili se chimicamente non è spiegabile questo fatto la fisica ci può aiutare queste proteine anomale che colpiscono contagiando l'uomo generano malattie come la malattia di Kreutz e Jacobs l'insogna familiare fatale e la malattia di Gershman Strauss e Schenker che sono considerate malattie spontanee genetiche o infettive molto rare che insorgano in genere in età adulta dopo una latenza molto lunga ma con una evoluzione rapida in fausta dopo la comparsa dei primi sintomi già dagli anni 80 si conoscono grazie alla ricerca del premio Nobel Stanley Prusiner ma da lì in poi non è stata fatta molto strada perché non si possono osservare direttamente Emiliano Biasini biologo guida dal 2015 un gruppo di ricercatori dell'Università di Trento per occuparsi dei prioni e scrive la loro tendenza ad aggregare infatti ha reso finora impossibile applicare la cristallografia raggio X la stessa tecnologia usata da Fang Li o la risonanza magnetica nucleare i metodi più comunemente utilizzati per caratterizzare finemente la struttura delle proteine fino a livello atomico d'altra parte un modello affidabile della proteina prionica è essenziale per disegnare delle strategie terapeutiche mirate in questo senso un grosso aiuto è arrivato da una disciplina apparentemente distante dalla biologia e dalla chimica ovvero la fisica subatomica per terminare vorrei citare ancora una volta Emilio del Giudice il fisico che collaborò fino alla sua morte con l'altro premio Nobel Luc Montagnier la società si è costruita con le sue leggi che non sono le conseguenze delle leggi della biologia sono le leggi dell'economia che sono leggi diverse la legge della biologia richiede la cooperazione la legge dell'economia richiede la competizione quindi in questo senso l'economia è intrinsecamente un fatto patologico che genera patologia che genera malattia finora nella storia umana si è stati nella preistoria perché la specie umana come tale non ha mai avuto la possibilità di formarsi perché per formarsi i suoi componenti debbono risuonare tra di loro la competizione è l'esatto contrario della risonanza finché esiste un regime fondato sulla competizione tra gli esseri umani il problema della salute e della felicità non potrà mai essere risolto e lo cito ancora una volta le scienze che producono enunciati universali sono predittive e chi le pratica ama chiamarle dure mentre le scienze che producono enunciati esistenziali sono chiamate descrittive e chi non le pratica le chiama molli i biologi spinti dal paradigma popperiano hanno sviluppato una sana invidia per la fisica e provano da tempo a proporre leggi predittive matematizzate ma l'evoluzione stessa mostra come sia intrinsecamente impossibile prevedere la storia naturale possiamo identificare qualche legge genetica e qualche legge ecologica ma quando queste interagiscono la situazione diventa talmente complessa che le previsioni dure diventano intrinsecamente impossibili e qui mi fermo ringraziando i pazienti ascoltatori sperando che oltre ad ascoltatori siano anche capitori grazie a tutti grazie a tutti